I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno fatto luce sulla morte di un giovane di nazionalità romena avvenuto nella città del Longano nel 2019. Nelle scorse ore è stato arrestato il fratello della vittima di 25 anni. I militari dell'arma hanno dato esecuzione nei suoi confronti ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale procura della Repubblica guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti. Il provvedimento cautelare scaturisce dall'esito delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto a seguito del rinvenimento del cadavere del fratello avvenuto il 19 maggio 2019 incontrata a posto nella località femmina morta di Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare quella notte verso le ore 2 l'indagato dopo aver contattato il numero di emergenza 112 riferiva di aver rinvenuto il cadavere del fratello che sarebbe precipitato dal balcone da un'altezza di circa 5 metri. Giunti sul posto i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti sullo stato dei luoghi e con l'apporto tecnico del medico legale provvedevano ad effettuare una preliminare ispezione cadaverica. L'indagato aveva raccontato di aver trovato al suo rientro a casa il corpo esamine del fratello riverso nel giardino dell'abitazione. Lo sviluppo delle indagini forniva elementi non compatibili rispetto alle dichiarazioni dell'indagato, anzitutto la causa del decesso del giovane. Secondo la consulenza medica risulta dovuta a un arresto cardiocircolatorio per grave trauma cranico con fracrasso cranio facciale causato da un oggetto di ingente peso e dotato di elevata energia cinetica verosimilmente orientata dall'alto verso il basso. Inoltre gli elementi probanti emersi dall'attività investigativa hanno permesso di smentire quanto dichiarato dal fratello della vittima. In particolare le indagini svolte in ordine alla dinamica del decesso e dello stato dei luoghi hanno fatto emergere un risultato incompatibile con la versione fornita dall'indagato e con l'ipotesi della caduta accidentale. Infine le attività tecniche hanno permesso di accertare ulteriori contraddizioni anche in riferimento all'arco temporale dei fatti narrati dall'arrestato. Il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, condividendo la ricostruzione operata dall'ufficio della Procura a seguito dei convergenti elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico del 25enne con la pesante accusa di omicidio aggravato in danno del fratello. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria.